Come annunciate, sono arrivate sul tavolo del Sindaco e della Giunta le dimissioni ufficiali del Comitato Po. Dimissioni corredate da una dura lettera documento firmata da tutti i membri, tranne uno, nella quale trappellano i rapporti complessi tra l'amministrazione e il direttivo. Si parla di scoramento dovuto alla mancanza di comunicazione diretta, condivisione di obiettivi e rispetto, atteggiamenti che, secondo il Comitato, sarebbero durati nel tempo. La cancellazione della festa di primavera prevista per questo weekend e fatta saltare all'ultimo per questioni di sicurezza, dunque, sarebbe solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Abbiamo svolto questo ruolo a titolo gratuito perché crediamo che nell'impegno civile si possa davvero fondare la democrazia delle nostre città, non solo in tempo di elezioni e liste civiche, affermano i firmatari della lettera, lanciando una stoccata al Comune. In un Paese democratico, gli amministratori devono avere rispetto dei propri cittadini e farsi carico anche degli insuccessi, senza pubblicare comunicati stampa in cui si addossa la propria inadeguatezza a chi si impegna volontariamente. Da parte del Comune, al momento, si registra solo un timido tentativo di riconciliazione affidato ad una mail e ad un messaggio WhatsApp dove si chiede un incontro.